Siete a dieta e volete una ricetta facile, sfiziosa e leggera? Fate questo sgombro con me! Iniziamo! Per prima cosa disponiamo gli sgombri sulla leccarda rivestita da carta forno, poi nella pancia mettiamo un po' di sale, un po' di prezzemolo, una esterna e una interna, mettiamo le pettine di limone e mettiamo a cuocere in forno statico a 180 gradi per 25 minuti. Ora, mentre il pesce cuoce, in un bicchiere spremiamo un limone, mettiamo uno spicchietto d'aglio, un ciuffetto di prezzemolo, un po' di olio ex vergine d'oliva, un pizzico di sale e frulliamo. Ecco qua! Ora ci mettiamo un po' di condimento, vediamo un po'. Mamma mia!